Questa è una storia di bacche, di baci e di grandi e rotonde noisette, di morbidezze e carezze, di scialli e lapin, di quelle storie di forza, d'amore e provincia e cremosità, lasciate a concare per anni, che tanto si sa, biglietti e baci, d'amore nascosti e in più, ore e giornate passate, tra formule magiche e scure bontà, granuli e schegge preziose da non buttar via.